L'uomo preistorico inventò la ruota L'abate di Ottfeyl il motore a scoppio Non l'avessero mai fatto perché tanti secoli dopo le donne hanno inventato Le motorizzate! Sono loro, attenzione, eccole, arrivano! Ma chi, ma chi? Le motorizzate! Bazzale però, avveni che so, ma che fardo, che fardo? Cose più impensate, mettono la freccia a sinistra, girano a destra, montano sui marciapiedi? Le cose più impensate! Non esageriamo, in fondo le motorizzate sono più caute, più attente, più prudenti degli uomini Ma va a morire, ammazza! Ma chi le controlla ste motorizzate? Ah, niente paura, c'è lui che vigila Un film sprint super carburato senza freni E lui che fa? Rivigila Un film a senso alternato E lui? Niente paura, lui rivigila Un film a senso vietato Oh, e lui non dice niente? Lui, ma lui quadrivigila Vabbè, lui vigilerà sulle strade Ma ste mona che su che vigilano? Beh, vigilano sulle vie del signore Ah, ma non è più lui che vigila No, no, adesso lui è vigilato Le motorizzate! Un film che naturalmente non può essere interpretato che dalle motorizzate Sandra Mondaini Il vigile Totò Stop! Al semaforo del successo si fermano Le motorizzate! Fermatevi anche voi a vedere questo film Soprattutto in compagnia delle motorizzate Le motorizzate! Un film prodotto dalla Marco Film e diretto da Marino Girolami Prossimamente qui!